Nessun elemento riconduce a un movente razziale. L'ipotesi inizialmente percorsa dagli inquirenti dunque sparisce dalle motivazioni della sentenza che il 7 gennaio scorso ha condannato per omicidio volontario a 16 anni in rito abbreviato Roberto Pirrone che il 5 marzo del 2018 uccise il venditore senegalese Ididiene sul ponte Vespucci a Firenze. L'ex tipografo in sostanza non ha ucciso per il colore della pelle. In base ad alcune testimonianze emerge che i comportamenti e i discorsi di Pirrone non erano mai finalizzati ad alcun tipo di discriminazione. In un altro passo delle motivazioni il giudice Sara Farini commenta che anche dall'esame dei supporti informatici sequestrati non sono emerse tendenze razziste o vicinanza con gruppi o movimenti xenofobi. Scartata dal giudice anche l'aggravante dei futili motivi. Non è stato individuato un movente esatto ma di certo escluso quello razziale. Altra certezza l'evidente sofferenza psichiatrica dell'uomo ricavata dalla perizia del processo da cui emerge comunque la capacità di intendere e volere. Tuttavia anche se il processo non è riuscito a stabilire perché Pirrone sparò a Ididiene il vissuto dell'ex tipografo, i suoi difficili equilibri familiari e le relative conseguenze sembrano aver avuto il loro peso nella decisione di fare fuoco in mezzo alla strada.